Qual'è il segretario Alessia per lavarsi e cambiarsi e truccarsi in due genuti? Io l'ho preparato i panni e tutto quanto. No, io forse ho capito. Essere di Wilmy. No, quello perché ci sono io, che l'ho già preparato tutto quanto. Questo non lo ammette però, andava così. Dei scienziati, sì sì, vedete che ho raduno di scienziati stasera. Sì, stavate la nostra, non volesse.